Nuova iniziativa del Centro Culturale Santa Francesca Cabrini. Di che cosa si parlerà questa volta? Questa volta l'incontro si terrà sull'emergenza educativa. È un argomento molto attuale e per questo abbiamo invitato il professor Franco Nembrini, quindi insegnante, rettore di una scuola paritaria in provincia di Bergamo e noto di scrittore. Ha scritto libri su Dante e su altri autori contemporanei. A prima vista potrebbe sembrare un incontro che riguarda solo gli addetti ai lavori, invece sappiamo che l'emergenza educativa è un argomento che vale per tutti, dai ragazzi agli adulti. Questa volta l'incontro verrà impostato con domande che abbiamo raccolto da insegnanti, genitori, che in questo momento di crisi con la pandemia hanno passato un periodo difficile e sono emerse tutte le problematiche educative e di rapporto che erano come c'erano già, ma la pandemia le ha fatte esplodere. Ecco, quando si terrà questo incontro? L'incontro si terrà questa sera alle ore 21 e sarà sempre via web sul canale YouTube del Centro Culturale. Una cosa che volevo sottolineare è che tutti gli incontri che abbiamo fatti si possono rivedere perché sono pubblicati sul sito YouTube del Centro.